E allora chissà, chissà se è roccia o chiume la nostra prossima ospite, sicuramente un ciclone, ma che dico, un flagello di Dio, ma quando tutti la vedono pensano che la vita è bella, perché con noi Rita Rusic, benvenuta a Tango, citavo tuoi film. Allora, a differenza di Mieli tu balli, però dopo lo vedremo nelle immagini. Sì, ma che ballo sei? Una baciata molto sensuale? Beh, una baciata anche, mi piace anche il tango. Ah, quindi un po' lacrime, sorrisi, pugnali e rosa. Un po' dramma, passione. Senti, tu sei una donna che vuole sempre guardare avanti, io invece ti faccio tornare indietro, tornare alla tua infanzia, che ricordi hai da bambina in Istria? Ho letto che avevi un padre artista, musicista, scultore, che però non riusciva a vendere molte opere nel paesino nel quale viveva. Allora, mio papà cantava, suonava, eccetera, eccetera, però comunque, dato che era un po' il leader, faceva anche teatro e volevano a tutti i costi che facesse politica, e mio padre non riusciva a fare politica. Era orfano di padre, durante la guerra aveva ammazzato il papà, e mia mamma aveva la stessa cosa, quindi non volevano assolutamente avere a che fare con la politica. Però non facevano anche lo scultore? Sì, sì, certo, perché era artista. Ah, sì, sì, aveva anche questa passione. No, perché ho letto questa cosa allora, che in realtà, visto che non vendeva molte opere, scolpiva lapidi da morto, è possibile? No, 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 facevano di tutto, sai, io vengo da un paese, Castellier, che è un paese dell'Istria, poverissimo, e quindi loro sono rimasti orfani da piccoli, e la musica era un lusso, tutti e due suonavano, i fratelli, però poi facevano di tutto, ecco. Senti, comunque l'arte è rimasta nel sangue. Sì. Raccontami il tuo arrivo in Italia a quattro anni, la città finalmente, Trieste, le luci, ma insieme anche la vita quotidiana in un campo profughi, che tra l'altro era stato un campo di concentramento, cioè la visiera di San Sabba. Sì. Cosa ricordi di più di quegli anni? Il sogno di volare alto o i materassi sporchi di sangue per terra? Allora, quello che ricordo, perché ero molto piccola e che mi raccontano è che venendo da un paese piccolo, tutte campagne, eccetera, eccetera, quando vidi la città, dissi da qui non si torna indietro, perché mia sorella piangeva e lei diceva voglio tornare da noi, voglio andare a casa, voglio andare a casa. E io però dissi no, indietro no. E poi c'era un campo di concentramento, avevano diviso le donne dagli uomini, quindi papà da una parte e noi con mamma, e sai, vedevi questi materassi tutti sporchi, tutte queste cose, mamma aveva portato una piccola valigetta con le lenzuola, aveva coperto un po' così e poi noi stavamo così in mezzo a questa stanzetta a piangere, e poi però diciamo una durezza, una sofferenza che valeva il sogno. Sì, una sofferenza che sapevi, allora arrivando così da un altro paese, sapevi che ci volevano almeno tre anni, tre anni e mezzo per diventare cittadina italiana e per poter vivere in questo paese. Andavi in questi campi profughi, eravamo rinchiusi col filo spinato, eccetera, i genitori potevano andare fuori a lavorare, però chiaramente tutto timbrato, cioè non eravamo liberi per niente. Noi bambini avevamo la scuola lì dentro, c'era un piccolo ospedale, poi giocavamo, giocavamo con niente, gioco, io raccoglievo sigarette, cicche di sigarette. Però, durezza, a proposito, tu hai raccontato che quando dicevi che eri nata in Jugoslavia ti dicevano, ah, anche la mia donna di servizio è jugoslava. Sì, sì, erano tutte le carriere. Tu come reagivi? Però ti chiedo anche se oggi ti sembra che gli italiani siano diventati più accoglienti, più tolleranti? Non credo. Non credo che siamo diventati più tolleranti perché ci fa sempre paura il diverso, no? Ci fa sempre paura una persona che viene da altre culture, da altri paesi, da altre religioni, eccetera, eccetera. Io mi ricordo un giorno guardavo le cose di quando ero piccola e c'è un piccolo libricino, sai quello della scuola, le maestre scrivono e dicono, ah, una piccola bambina profuga è molto permalosa perché comunque mi sentivo sempre di dover dare di più, di dover dimostrare, di meritarmi, di poter stare in questo paese e ci volevamo stare a tutti i costi. Però non ci sembra che l'Italia sia cambiata, sia migliorata da quel punto di vista? No, no, io penso che ci vuole un po' nell'accoglienza, indipendentemente dal credo politico, nell'accoglienza ci vuole, bisogna dare un pochino di dignità alle persone. Cioè, per questo io sono favorevole ad accogliere chi si può accogliere, però dignitosamente, dandogli una possibilità. Con un'integrazione vera, diciamo. Senti così, mezza la strada, buttati senza un lavoro, senza niente, cioè anche lì ti dovevi reagire, era durissima. Senti Campoprofughi, poi il collegio dalle suore a Roma che hai raccontato essere duro anche quello, però poi il ritorno al nord, a Busto Arsizio, a Milano, hai frequentato quest'istituto odontotecnico. Voglio andare su questi punti perché è un racconto di te che forse non si conosce così tanto. Alcuni tuoi compagni di scuola erano nell'eversione e sono stati arrestati. Tu come hai vissuto gli anni di piombo? Beh, la nostra scuola era molto politicizzata, quindi noi avevamo addirittura il sei politico. Andò su tutti i giornali, i telegiornali, il fatto che noi, qualcuno, aggiunse nel registro di scuola, aggiunsero un nome e fu promosso. E quindi, vabbè, uno scandalo. Allora, non hai mai pensato di entrare, come vivevi la politica, a entrare, non dico bande armate, però all'epoca. Beh, bande armate non avrei mai potuto, ero talmente fragile, talmente... Io sono entrata grazie al fatto che ero profugo in una scuola così, ma non perché fosse politicizzata, perché volevano tanti, si iscrivevano in tantissimi e ne prendevano solamente pochissimi. No, per me erano i miei amici. Io sapevo che facevano attività politica, ma non che facessero... cioè, che fossero... Però a volte, quando vedevamo a scuola questi filmati di manifestazioni strane, eccetera, eccetera, quando partivano, non so, delle molotov, saltavano delle cose, eccetera, riconoscevamo un po' i nostri compagni di scuola. Senti, poi ti sei iscritta a medicina, è vero che volevi fare la pediatra e perché non hai completato gli studi? Eh, allora, volevo fare la... Sì, la pediatra, poi volevo... Non ero così sicura. Quando ero più piccola volevo fare la pediatra, poi volevo cambiare, poi volevo fare la dentista. Sì, infatti l'estituto è molto tecnico. Sì, e poi invece poi a vent'anni ho conosciuto Vittorio e poi mi sono trasferita a Roma. Medicina non è una facoltà che puoi fare come hobby, è una facoltà molto seria, molto impegnativa e devi voler poter fare quel mestiere, insomma. Hai fatto la modella, però... Vittorio mi disse... Hai posato per Postal Market. Quando l'ho letto ho pensato a tutti gli over 50 e 60 che ricordano il catalogo Postal Market con commozione. Sì, perché io facevo la modella, diciamo, più di tutto di costumi da bagno, biancheria intima, corpo in generale. Ma potevi permettertelo anche adesso, figuriamoci allora. Facevo molta pubblicità e poi così abiti da sposa, ma molta pubblicità, anche molti spot, tantissimi. Hai evocato il tuo incontro cruciale, ce n'è un altro, non solo con Vittorio Cecchigori, ma anche col cinema, Asso, Adriano Celentano. Quale amore è nato prima, per il cinema o per Cecchigori? Allora, l'amore per il cinema è nato quando ero piccola, perché mio papà la domenica pomeriggio prendeva me e mia sorella, così mia mamma non si poteva riposare, fare le cose sue, eccetera, e ci portava al cinema. Dopo il cinema la pizza. E quindi un appuntamento classico. Mio padre amava, fin da quando era piccolo, andava proprio con la bicicletta a vedere tutti i film americani. E mi ha chiamato Rita per Rita Hayward. Ah. Sì, perché mi voleva chiamare Ava Gardner, perché era la sua attrice preferita. Però tutti Ava, allora c'era la pubblicità, Ava come l'Ava. hanno detto no, Ava no. Un nome, un destino. Sì. Quindi prima il cinema di Vittorio Cecchigori, e poi l'amore invece con Cecchigori, perché tu hai detto, la possiamo vedere con quel meraviglioso bikini di pelliccia, in atti la flagella di Dio. Tu hai detto che su quel set ti sei sentita inadeguata, che invece era una meraviglia, eccoti. Sono sentita inadeguata, poi dopo ero giovanissima, chiaramente avevo 21 anni, e abbiamo girato ottobre, novembre, dicembre, settembre, ottobre, novembre, così. E insomma, a febbraio, marzo, avevo i romatismi. Dolori dappertutto, perché c'è un freddo. Non smontare il mito, per favore. No, veramente, dei dolori che non ho mai avuto, non ho neanche adesso, ma ti dico, girare comunque due mesi così, sempre nuda, insomma, non faceva tanto caldo. Mi senti inadeguata lì, e invece Cecchigori, come ti faceva sentire? Tu eri, sei bellissima, molto più giovane di lui, era geloso, possessivo, martellante. Ah sì. Gelosissimissimissimissimissimo. Però mentre giravo Attila, lui era a Milano, perché con Adriano Celentano stava girando un altro film. E quindi, niente, ero un po' più tranquilla, diciamo, ecco. Senti, la separazione da Vittorio Cecchigori è stata pesante, anche. La guerra dei rosi, sì. Eh, la guerra dei carabinieri coinvolti, quando vi siete lasciati hai detto Vittorio tra i suoi vizi, la famiglia ha scelto i primi. In che senso? Vabbè, perché capita. Nella vita ognuno fa le sue scelte. Non è facile vivere in un mondo come il nostro e rimanere abbastanza integri. Cioè, è difficile avere un grande successo travolgente e non esserne travolti. Ma lui partiva il tuo successo, perché adesso l'amore si è mescolato al lavoro, tu hai cominciato a fare la produttrice cinematografica con lui e poi a un certo punto hai detto mi ha sentita come una nemica, voleva ignentarmi. Beh, diceva, si lamentava, diceva io sono figlio di un grande padre e marito di una grande moglie. come dire, vabbè, riconoscono a tutti un talento, attorno a me e a me no. Lui aveva un suo talento, però il suo talento era così folle, nel senso aveva grandi idee, però non era il produttore classico, diciamo, quello che sta sul set, oppure quello che legge, che fa. Lui lo vedeva dal punto di vista imprenditoriale. Però è stato comunque un grande amore, perché siamo andati subito alla separazione, al lato più sgradevole. Certo, è stato un grande amore, tu eri sinceramente innamorata. Sì, certo che ero innamorata. 18 anni e mezzo comunque sono tanti anni. Insomma, se non sei innamorata, penso un anno e mezzo, due anni, insomma, 18 anni e mezzo, due figli, il lavoro, tutto. Poi comunque sono una persona tra virgolette seria. Se prende una decisione, la porta fino in fondo. Io mi sono sposata per amore e credevo nella famiglia, però è difficile, è stato molto difficile. Vittorio è cambiato, è andato in una direzione, io sono andata in un'altra. Però anche, nonostante la separazione, quando finì in carcere a Regina Celi, tu gli sei stato vicino. Certo. Lui l'ha passato o no? Lui l'ha passato o no? Non lo so se l'ha apprezzato, non lo so. Però, però, l'importante è che apprezzi io, cioè io devo essere contenta di me stessa. Poi, certo, se ti viene riconosciuto, è meglio. È bello che si riconosca. Non ti ha riconosciuto neanche, insomma, degli alimenti dopo la separazione. Non è vero che vi siete lasciati, non hai avuto neanche un euro, hai dovuto ricominciare da zero? Allora, la verità è, infatti sono atti pubblici, che io ho fatto un divorzio a zero euro, che è ridicolo. Cioè, veramente protesto per tutte le donne. Ma no, trovo che sia ingiusto che una donna, dopo 18 anni e mezzo, non abbia diritto a qualcosa, anche perché, prima di tutto, per se stessa, per la sua dignità, eccetera, e poi per i figli, per, insomma. insomma. Vabbè, un mantenimento per i figli gliel'avrà riconosciuto comunque lui. È un mantenimento per i figli, ad un certo punto il giudice, sì, certo, l'ha riconosciuto, che però, vabbè, anche lì è una discussione un po' lunga. E com'è stato passare da, yacht, da un miliardo di lira al mese, hai detto, a una vita normale? Eh, è stato scioccante, chiaramente all'inizio è stato scioccante, tutto quanto, però poi sai, nella vita io sono una persona che viene dal niente e penso che ad un certo punto la felicità la devi trovare in quello che hai, la devi trovare e quindi ti devi sempre adattare. Io alla fine, quando sono andata in America, ho vissuto dieci anni, sono stata negli Stati Uniti, poi facevo la lavatrice che non avevo mai fatto, cioè facevo tutte queste cose che vabbè, le persone normali chiaramente lo fanno sempre, però io che non l'avevo mai fatto perché facevo una vita caotica, una vita normale, ma alla fine ho apprezzato pure quello. Senti, infatti hai detto, la felicità bisogna prendersela, il permesso di essere felici non ce lo dà nessuno e oggi sei felice? Sì. Sì? Sì, sono una persona felice, poi ho sempre i miei tormenti, sono sempre lì perché poi vivo, tra virgolette, per i miei figli, vorrei per i miei figli tutta la felicità del mondo, quindi ad esempio adesso con mio figlio stiamo facendo, abbiamo aperto una società di cinema perché mio figlio dopo anni che ha lavorato nello sport adesso vorrebbe ritornare al cinema. Sì, sì, perché comunque i miei figli sono cresciuti diciamo a latte e cinema, latte e film. Certo. E quindi adesso stiamo facendo questa avventura, invece con mia figlia in America abbiamo iniziato un'attività invece nella moda e per fortuna va bene e quindi vi siete reinventati anche con qualcosa. Ci siamo reinventati e in qualche maniera vogliamo tornare di nuovo a fare cinema perché pensiamo di avere qualcosa che poi è stato il tuo grande successo da produttrice cinematografica, tu hai raccolto praticamente i premi più prestigiosi, Davide Donatello, Leoni a Venezia, l'Oscar con La vita è bella e finché hanno sbancato il botteghino. Sì, il ciclone. Il ciclone di Pieraccioli. Dimmi qual è quello che ti ha dato più soddisfazione e quale ti ha deluso di più. Di film? Che prodotto. Ma si delude quando, guarda, di nome è difficile fare un titolo, però ti delude quando poi vedi il film e non ti piace. Cioè in fin dei conti la cosa più importante è la storia, una storia che emozioni. Un giorno eravamo al cinema e c'era una bambina davanti con il papà, forse è la prima volta che la portava al cinema da solo, sicuramente un padre separato. e c'era ancora la fine del primo tempo. Allora si interruppe il film e il padre chiese alla bambina, disse ti piace? Ma la bambina lo guardò così e disse ma non fa né ridere né piangere. Quindi come per dire, il cinema ti deve emozionare. Quindi o mi diverti o mi fai piangere. Quindi non mi dici quale ti ha deluso ma quello che ti ha dato più soddisfazione? Beh, più soddisfazione di tutti sono stati, diciamo, tanti, perché ci sono tanti film. Forse il primo successo mio dopo anni di premi che ho detto qua faccio falire la società, la scuola, Daniele Lucchetti perché fu un successo sia vinse il Davide Donatello migliore film però anche fece il primo film mio che fece i soldi e così anche Virzi, Feride Agosto Anche Mazzacurati Mazzacurati sì, abbiamo vinto il Leone d'Argento a Venezia così ridevano di Amelia abbiamo vinto il Legone d'Oro a Venezia e vabbè il Ciclone i Fuochi d'Artificio insomma grande talent scout il film di ma anche Albanese i primi due film di Albanese lo fatti io Salem Panariel ha scoperto un sacco di talenti Rita Rusic Milani Riccardo Milani che fa tantissimi film dimmi una stare insopportabile almeno qui i buoni ci interessano meno stare insopportabile con cui hai lavorato molto prima donna può essere anche un uomo può essere anche un uomo sai con i produttori sono abbastanza carini gentili perché sempre è conveniente tra virgolette senti l'ora si presta anche a un insomma qualche domanda sul sesso che tu non hai mai nascosto di apprezzare molto dopo la storia con Vittorio Cecchigori hai avuto molte storie o semplici flirt quando ho conosciuto Vittorio avevo un fidanzato e basta sempre fedele a Vittorio certo fedele come i carabinieri però e poi e quindi ho fatto diciamo che non ho fatto mai non ho fatto mai la vita della ragazza quella che si diverte va in giro eccetera eccetera quindi ho recuperato un pochettino dopo però e adesso si sempre fidanzata lo vediamo Cristiano Di Luzio che è molto più giovane di te più giovane anche di tua figlia perché quasi un anno fa tu al Corriere della Sera in un'intervista hai detto il nostro bellissimo viaggio perché a termine ah certo cioè continua è finita dura no dura ma nel senso è un ragazzo giovane poi prenderà la sua strada e non so avrà una famiglia avrà diritto anche lui ad avere a vivere delle cose che con me non vive non potrà vivere ma dimmi il positivo e il negativo dello stare con un uomo molto più piccolo di te considerando che se è un uomo che sta con una donna più giovane va bene insomma non si giudica più di tanto se è una donna farlo pioggia di critiche sai l'importante quando si sta insieme è quando si cioè essere felici io con lui sono felice come un piccolo sole nella mia casa c'è una luce e però è una felicità che dura e lui anche poi quando non saremo più felici non vi lascerete non staremo insieme più pazienza allora